ed eccoci tornati amici di test di calcio eccoci qua, stiamo tornati per parlare di Champions abbiamo parlato del riassuntone della quarta giornata di campionato dell'esonero di De Rossi adesso andiamo a parlare di Champions League torna la Champions League con questa modalità nuova esatto, un girone unico ogni squadra affronta otto squadre quattro in trasferta e quattro in casa e praticamente le prime otto passano direttamente poi dalla nona alla ventiquattresima faranno gli spareggi e dalla venticinquesima alla trentasesima eliminate se ne vanno a casa e quindi noi andiamo subito a vedere questo primo match ma a te ti piace questo formato nuovo? no, per niente, però vabbè non ha molto senso per non essere troppo polemico ma pure a me un pochino fa cagare anche perché comunque abbiamo parlato varie volte degli infortuni dei ganciatori e via dicendo se dovrebbero giocare di meno e tutto quanto invece di farli giocare di meno li fanno giocare di più ce li incoglioniscono a noi perché giocano sempre partita spezzatino quindi per fare tutti i vari risultati devi vedere tipo tre giorni di partita sì, infatti ma già la Champions oggi è giovedì esatto giocava l'Atalanta ha finito la partita praticamente dieci minuti fa non ha molto senso insomma ma comunque noi parliamo di calcio per cui sappiamo che il calcio ormai è in mano ai potenti si parla solo di soldi andiamo a cominciare cioè poi cominciamo questa serie di partite abbiamo avuto le prime le prime partite che sono state per l'appunto hanno giocato ormai tutte le squadre italiane sì sì per cui andiamo a commentare anche questa cosa che è molto importante perché le italiane in Europa devono far bene ragazzi perché sennò ci tolgono il quinto posto ok dobbiamo fare attenzione alle squadre inglesi e soprattutto quelle tedesche allora partiamo subito con Juventus PS Guendoven la partita è finita 3 a 1 per la Juventus la Juventus comincia alla grande questa Champions League l'avversario non era di blasone ma era comunque un avversario temibile vince 3 a 1 e porta a casa tre puntarelli segnano anche giocatori che comunque hanno messo un po' di curiosità all'interno di questa nuova Juve uno su tutti che è Hildiz e Hildiz ha registrato due record ha segnato il primo gol di questo nuovo format sì ed è diventato il canciatore più giovane a segnare in centro a segnare in centro sovranando proprio il Piero pensate pensate che ha commentato poi tra l'altro il risultato di quella partita cioè cose allucinanti quindi però ecco ti devo dire la verità dopo la cioè la Juventus ha vinto 3 a 1 diceva un risultato normale però è stata proprio netta la vittoria cioè su tutti i punti di vista giocando bene e non me l'aspettavo dopo lo 0 a 0 con l'Empoli guarda io ho visto proprio una mentalità più europea mentre in Italia fatica perché trovano le difese più chiuse sì in Europa trovando comunque squadre che ti giocano all'aperto sì non io riesco a dimostrare più il gioco cioè Tiago Motta lo vedo proprio che sta facendo più internazionale sì a me è piaciuto veramente tanto vedere la Juve è stato un piacere quindi te l'aspettavi però la vittoria o no? sinceramente no prossima partita Young Boys contro Aston Villa partita finita 0 a 3 ecco questa è una partita che diciamo ovviamente considerando sempre il famoso ranking UEFA la Ston Villa porta a casa e si prende tre punti a noi questo ci dispiace perché se vincono le squadre inglesi a noi ovviamente dispiace però però è una piccola rivincita perché diciamo che un Young Boys che ha eliminato il Galatasaray che dovrebbe fare 5 gol alla Roma secondo Mario Barodelli ha preso 5 5 gol dagli Young Boys poi andiamo avanti c'è stato questo è un risultato importante Real Madrid e Stoccarda il Real Madrid non gioca benissimo la partita l'ho vista perché mi incuriosisce vedere Vinicius e Mbappé giocare insieme cioè quando noi in Italia ce lo sogniamo un attacco del genere e vince 3 a 1 con lo Stoccarda questo è un buon risultato sempre in discorso al ranking UEFA però ecco vince a fatica lo Stoccarda fa una partita un po' più catenacciara più maschia e crea difficoltà Real Madrid ma poi alla fine pensa una squadra in difficoltà riesce comunque a fare tre gol andiamo avanti e parliamo della partita record ovvero la vittoria per 9 a 2 del Bayern Monaco contro la Dinamo Zagabria un record in assoluto per la Champions League dove il Bayern a Monaco trita quello che rimane della Dinamo Zagabria facendo ovviamente un grande festival di gol ma soprattutto giocando anche un buon calcio ma sì io ti vorrei fare una domanda tu essendo comunque simpatizzante del Bayern Monaco ma come lo vedi questo company allenatore una scelta molto azzardata in realtà è una scelta molto azzardata sono d'accordo con te sono d'accordo Leverkusen ha vinto con tanti punti di vantaggio poi andiamo avanti e abbiamo la vittoria dello Sporting contro il LOSC che squadra è il LOSC? che cacchio di squadra è? LOSC LIL a me qua mi dice LOSC Sporting Lisbona LIL 2 a 0 quindi non si sa per quale motivo su un sito dove ho guardato i risultati mi dava praticamente OSC non so per quale motivo però va bene così il bello della diretta ecco il bello della diretta e purtroppo insomma c'è stata questa cosa qui andiamo avanti che tra l'altro poi se non ricordo male aveva fatto anche la partita col Fenerbace se non ricordo male il LIL sì ok mi ricordavo bene questa cosa fece la partita col Fenerbace per per qualificarsi per qualificarsi ok poi abbiamo avuto il il pari del Bologna il pari del Bologna il pari del Bologna mi ha mi ha sorpreso il pari del Bologna ragazzi che obiettivamente anche qua il Bologna giocava giocava comunque come una squadra che ci può stare diciamo col Bologna dell'anno scorso ci poteva stare lo Shark Tardonex e col Bologna l'anno scorso il Bologna di quest'anno un pochino meno però abbiamo visto che l'italiano con la Fiorentina in Europa non ha fatto male e diciamo che lo Shark Tardonex insomma voglio dire non è più quello di una volta per cui questo Bologna in crisi che sta cercando di ritrovarsi comunque ha portato a casa un bel puntarello e tra l'altro se non ricordo male Sporowski ha pagato ha pagato ha pagato un rigore si esatto Sporowski è stato veramente bravo ha pagato proprio un rigore su Tarkovic quindi possiamo dire che è più un punto guadagnato che due persi si quindi ci può stare poi la prima esperienza in Champions dopo tanto tempo ci sta poi mi sono dimenticato in precedenza nell'elenco la partita del Milan ok Milan Liverpool questa non ci voleva il Milan una le due ha perso ma il Milan ormai lasciamo perdere il Milan parte bene va in vantaggio dopo pochissimo 1-0 e poi finisce se tu metti questa bottiglia sulla panchina del Milan il Milan gioca meglio la situazione purtroppo obiettivamente è questa questa non ci voleva perché come detto è un risultato scomodo per noi in qualità di questo scontro tra il campionato inglese e italiano insomma ecco diciamo così per questa storia poi del del quinto post tutte queste cose qua comunque del ranking UEFA è importante speriamo che possiamo continuare insomma e ci possiamo un pochino riprendere poi abbiamo avuto lo Sparta Praga che vince ben 3-0 col Salisburgo questa è stata secondo me la sì è stata veramente la sorpresa più enorme sì perché cioè io mi aspettavo una vittoria del Salisburgo sì anche io anche io anche perché lo Sparta Praga ci aveva abituato ormai a fare la conferenza la valiglia non più la Champions per cui poi abbiamo avuto la vittoria del Paris Saint Germain per 1-0 sul Girona l'ex squadra di Dobrik guarda io ti devo essere sincero io ero convinto che alla fine avrebbe vinto il Girona io mi sono giocato il 2 del Girona e quest'anno il Paris non è che sia in grande forma secondo me l'addio di Mbappé infatti considera hanno vinto proprio all'ultimo secondo sì hanno vinto all'ultimo con un autocon come detto intanto tre punti a casa ce li porti poi giochi male giochi bene in questo caso in queste partite c'è un conto un campionato un conto le partite dove devi fare tutti i possibili però diciamo gli arabi saranno un po' sporciati beh penso proprio nel senso perché un conto portate il campionato francese ma con tutti i soldi che ci metti la coppa dalle grandi orecchia la vorrebbe razzata e beh andiamo avanti e parliamo di Bruges Dortmund è finita 0-3 per il Dortmund anche questa una notizia che insomma il campionato tedesco come sappiamo dobbiamo sempre tenere d'occhio i tedeschi e gli inglesi ok la Francia è ancora un po' più lontana per cui possiamo stare tranquilli detto questo 3-0 del Dortmund è una squadra che gioca bene a calcio il Dortmund è una squadra che gioca bene a pallone nonostante ha cambiato l'allenatore nonostante ha cambiato l'allenatore questo dimostra che quando ci sono dei giocatori che comunque sono in grado di giocare a pallone ci puoi mettere anche una scarpa in come dicevi tu la bottiglia in panchina però ci sono i giocatori che giocano a pallone e danno tutto per quella maglia e non per chi è il loro allenatore andiamo avanti grande vittoria roboante del mitico Celtic il Celtic squadra leggendaria che tutti almeno una volta nella vita abbiamo preso anche a FIFA 2001 quando faceva la Champions ai tempi di FIFA 2001 che vince 5-1 con lo Slovan Bratislava non con il Real Madrid però vincere 5-1 in casa davanti ai propri tifosi una partita di Champions è sempre importante sì 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 qua invece entriamo un po' più nel tuo commento una partita che si è svolta ieri che è Manchester City Inter abbiamo già parlato durante la diretta del nostro programma del Stri Calcio però ne riparliamo qua insomma beh sì io è stata la partita che ho seguito avendo Amazon Prime e mi aspettavo comunque una goleata del Manchester City invece ho visto un Inter molto preparata cioè che comunque oltre a difendersi ha creato quelle delle belle occasioni sì si sono mangiati quelle dei bacon sì quindi devo fare i complimenti all'Inter e comunque colgo anche l'occasione per dire mi raccomando non fate i pezzotti non alla pilateria ecco questo è importante soprattutto però a prescindere dal pezzotto o no della pilateria quello che è bisogna dire che tra l'Inter e il Manchester City che ci stanno solo penso 400 milioni di euro di valore di giocatori partiamo così basti pensare che c'è solo c'è solo Alland vale almeno un paio di giocatori dell'Inter sì senza offesa perché pure l'Inter è una bella squadra però insomma un centrocampista come De Bruyne l'Inter non ce l'ha un attaccante come Holland l'Inter non ce l'ha ma senza offesa per carità nessuno dice niente ottimi giocatori però ci sta un fatto strano però l'Inter avrebbe meritato di vincere la partita io ogni volta che vedo il Manchester City becco la partita che Holland è il nostro champanone eh ma sono partite sono partite che capita molto spesso che non lo fa però magari però se gli passi quel pallone buono la palla dentro e la mette ci sta però ecco per dire no cioè Manchester ha una grande squadra dietro una grande fortuna a livello economico dietro però abbiamo abbiamo visto che comunque l'Inter se pur da caso per sbaglio doveva vincere quella partita avesse vinto quella partita nessuno gli avrebbe potuto dire nulla perché l'Inter ha anche meritato l'Inter nel corso degli anni comunque ha costruito una peorazzata in Italia è comunque una squadra più che dignitosa in Europa cioè l'Inter non è a livelli di Real Madrid Manchester City e Paris Saint Germain però se la può combattere cioè in un ipotetico scontro andata e ritorno cioè l'Inter non parte già battuta no assolutamente no non parte già battuta ma meglio ancora in questa modalità in questo caso è meglio perché adesso con il Manchester non ci deve più giocare no se faceva una partita di ritorno e poi soprattutto hanno giocato a Manchester da non sottovalutare poi andiamo avanti la vittoria del Benfica per 2 a 1 questo onestamente ci interessa poco anche perché sarà proprio una partita tra scapoli e ammogliati poi qui abbiamo il derby dell'odio per il nostro amico Daniele qui presente ovvero Feyenoord Bayer Leverkusen dove il Bayer Leverkusen ha fatto una passeggiata a montagna una partita a calcetto fra amici vincendo ben 4 a 0 però allora diciamo la partita dell'odio non proprio tanto odio perché mentre che col Feyenoord ci sta proprio una rivalità accesa perché c'è stata proprio nel corso degli anni anche con bandiere rubate nei settori anche con il gemellaggio con la curva del Daphoni cioè il Bayer Leverkusen comunque sì c'è stata questa rivalità comunque scherzosa pure sui social però comunque c'è pure da dire che una semifinale ce la siamo portata a casa noi e una semifinale ce la sono portata a casa loro in entrambi i casi sia noi che loro ne avevamo vinto una bella raccetta purtroppo alla fine sì andiamo avanti abbiamo Brest contro lo Stumgraz finita 2 a 1 per il Brest anche questa un'altra partita che fondamentalmente ci interessa poco andiamo a commentare anche l'incredibile vittoria del Monaco sul Barcellona per 2 a 1 non un grande risultato a livello numerico però comunque la vittoria del Monaco penso nessuno avrebbe detto a livello di Blasone comunque è una bella vittoria comunque il Barcellona non è più il Barcellona di una volta questo sì molto ridimensionale ecco vedi il discorso che si fa sempre se le società non hanno una programmazione rischiano di fare questa fine cioè il Barcellona ha avvitato una fortuna cioè era una delle squadre più ricche adesso si ritrova a non sapere se può testare un canciatore o no e questa è una cosa bruttissima anzi già è tanto che possono ancora fare il campionato comunque poi andiamo a commentare le ultime due partite la penultima è Atletico Madrid contro Lipsia Atletico Madrid riesce a vincere agli ultimi minuti e si porta a casa tre punti battendo l'Ipsia 2-1 sempre una squadra bella rognosa sì e infine concludiamo con la nostra Atalanta che sbaglia anche un rigore con Retechi e finisce 0-0 contro l'Arsenal una partita veramente ghiottarella questa sicuramente perché l'Arsenal gioca un bel calcio tra l'altro la neosquadra di Calafiori poi abbiamo anche l'Atalanta che pure lei gioca bene peccato per questo rigore sbagliato perché avrebbe dato tre punti all'Atalanta e più che altro punti a noi sempre per il discorso del ranking ma soprattutto avrebbe dato una squadra in più alla come detto nell'albo delle vittorie perché in questo turno purtroppo ha vinto solo ma in questo caso secondo te sono è un punto guadagnato o due punti persi in questo caso secondo me visto che l'Atalanta ha sbagliato il rigore a quanto si dice perché poi noi eravamo in registrazione in quei pochi minuti che ho potuto leggere al volo l'Atalanta ha giocato meglio quindi considerando anche il rigore sbagliato che è la cosa che ti avvicina di più al gol come occasione secondo me sono due punti persi però pareggiare con l'Arsenal che è una squadra in netta ripresa negli ultimi anni è sempre un bel puntarello insomma ci possiamo accontentare ci sono altre sette partite altre sei partite quanti sono? sì pure per me comunque sono due punti persi per il semplice motivo che ormai l'Atalanta per la mia per il mio modo di vedere è una realtà comunque reale e anche vittoriosa anche grazie all'Europa League mentre l'Arsenal ogni anno è una bella realtà ma purtroppo ancora incompiuta sì è vero comunque prima di chiudere prima di chiudere voglio fare un recap delle partite che poi ci saranno nel prossimo turno che il prossimo turno si giocherà il primo ottobre comincia il primo ottobre per cui fra due settimane più o meno all'incirca perché penso che giovedì prossimo ci sta l'Europa League sì ok cheppure l'Europa League è più o meno similare al processo sì hanno fatto la stessa la stessa cosa la stessa cagata ok quindi abbiamo il prossimo turno c'è il Salisburgo contro il Brest una partita che fondamentalmente non ci interessa molto poi abbiamo lo Stoccarda contro lo Spartapraga potrebbe essere una partita interessante anche perché lo Stoccarda comunque si dovrà riscattare eh certo e lo Spartapraga dovrà far vedere se si conferma comunque la squadra che è stata nella prima giornata o un fuoco di bagno certo giusto poi abbiamo Dortmund Celtic anche qui una bella partita per gli nostalgici poi abbiamo PSV Andoven Sporting Lisbona poi c'è lo Slambra lo Slambra di Strava contro il Manchester City quindi Manchester può prendere subito tre puntarelli dopo una passaggiata in montagna poi abbiamo Barcellona Young Boys questa non è da sottovalutare perché Barcellona ha perso lo Young Boys ha vinto se non mi ricordo male no ha perso ha perso Young Boys ha perso 3 a 0 con Alston Villa con Alston Villa esatto ero convinto che avesse vinto 3 a 0 quindi due partite cioè due sconfitte per cui bisogna un attimo valutarla bene perché una sconfitta a testa già secondo me bisogna ricominciare subito per cui potrebbe essere una partita molto aperta sì che poi queste partite squadre svizzere ti sembrano cioè squadre cuscinetto ma fino in fine possono riservare proprio delle insiglie delle belle sorprese sì poi abbiamo Leverkusen Milan che pensi che questa potrebbe essere in definitiva l'ultima partita di Fonseca sulla partita del Milan sulla panchina del Milan io mi aspetto al momento da Leverkusen proprio che che passeggia passeggia addirittura sì sì cioè se non se non c'è un cambio di direzione di cioè di di allenatore di brutta sì poi abbiamo l'Inter contro questa squadra impronunciabile il Crevenaz Deta non so che squadra sia onestamente che ha giocato poi col Benfica e ha perso 2 a 1 la squadra non lo so vabbè comunque anche l'Inter è facile poi ovviamente si deve giocare sì sì però però è un po' più semplice abbiamo l'Arsenal PSG ecco questa è veramente una partita di nostalgici perché comunque l'Arsenal ce lo ricordiamo per l'Arsenal di Thierry Henry e il Paris Saint Germain per il Paris Saint Germain di Ronaldinho di Ronaldinho anche bene quindi e poi comunque l'Arsenal ha una filosofia sui giovani sì e quindi è molto cioè ti attira mentre il Paris Saint Germain spende sempre soldi ai migliori campioni quindi è una partita come futuro campione contro campione affermato il Paris Saint Germain è un po' la versione farlocca del Real Madrid almeno il Real Madrid spende tanti soldi ma vince il Paris spende tanti soldi ma a parte le coppe di Francia e il campionato non è che abbia vinto molto al di fuori della Francia di Parigi diciamo così ecco e poi abbiamo Charlotte Adonis Atalanta perché è quella che ci riguarda il più Girona Feyenoord Benfica Atletico Madrid anche qua penso che l'Atletico ce la possa fare tranquillamente è una sfida che purtroppo secondo me vedrà un'altra sconfitta per la nostra squadra italiana ovvero Liverpool Bologna il Liverpool è vero che non fa più paura per carità però abbiamo visto quello che ha fatto al Milan e diciamo che se il Milan è in profonda crisi il Bologna non è che ride e si diverte quindi è vero che è fra due settimane magari questo pareggio iniziale in Champions può dare un qualcosa in più l'italiano avrà due settimane per poter lavorare in più sul suo Bologna però secondo me se il Bologna resta questo però il Liverpool si a Liverpool attenzione bisogna pure dire che davamo per spacciatire l'Atalanta l'anno scorso contro il Liverpool eh ma l'Atalanta è un'altra cosa però era un'altra cosa sicuramente il Bologna non vincerà con il Liverpool lo tengo per esclusione che la vittoria a Liverpool è impossibile però Liverpool e poi manco dice a Bologna però con le giuste motivazioni e il giusto comunque atteggiamento tattico e l'attenzione difensiva cioè un pareggio ci può stare puoi provare a giocare sul palco cioè il classico busto davanti alla porta e vai cioè puoi provare beh sì poi abbiamo l'Ipsi a Juventus partita molto interessante Lille Real Madrid Alston Villa Bayern Tumgraf Club Bruges Dinamo Zagabria contro il Monaco queste sono le prossime partite della Champions League allora considerando l'Inter che ha la partita più semplice sulla carta possiamo prevedere oltre a questo magari una vittoria da parte della Juve con l'Ipsia all'Ipsia non lo so però è una partita che sicuramente mi vorrà vedere perché è una partita sul piano del gioco molto interessante sì è vero secondo me giocano molto un'altra partita che vorrei vedere è quella della Dina Monzagabria vedere l'atteggiamento della squadra dopo comunque una sconfitta per 9 a 2 quindi cioè anche perché comunque ha ancora sette partite e può ancora dire la sua nonostante la sconfitta storica beh sì più che altro non è tanto un valore della sconfitta perché la sconfitta o la vittoria ha sempre tre punti di danno e tre punti di tolgono il problema è il morale cioè prende comunque nove gol una squadra comunque in Champions non è separato il campionato tuo lo vedono tutti per cui come dici tu è giusto anche vedere questo questo cambiamento comunque detto questo abbiamo fatto questo primo check per quanto riguarda la Champions sarà un appuntamento fisso anche questo ovviamente cercheremo di metterlo nel video della della live oppure cercheremo di fare qualcosa a parte questa sera mentre abbiamo fatto la registrazione c'erano tanti argomenti nel campionato le zone di De Rossi la morte di Schillaci l'intervento del nostro amico Simone per cui fare tutto un video sarebbe stato impossibile per cui l'abbiamo diviso in tre parti come avete visto quello di De Rossi è durato una ventina di minuti questo quasi una mezz'oretta per cui la diretta un'ora e un quarto per cui fare due ore di diretta sarebbe stato diciamo un po' dispersivo per tutti quanti voi detto questo salutiamo ricordiamo le solite cose mi raccomando seguiteci mettete like se volete rimanere sempre aggiornate mettete cliccate sulla campanellina e cosa molto importante fateci sapere nei commenti se avete richieste o comunque consigli sulle nostre dirette se per esempio volete più approfondimenti sulle italiane o va bene così che parliamo di tutte le squadre in modo più rapido anche per coinvolgere anche magari altre persone che si interessano anche a altre cose ma soprattutto fateci sapere se una volta volete partecipare con noi alle nostre dirette e noi nella sezione commenti metteremo il link per poter entrare se volete partecipare dire la vostra su ogni argomento che trattiamo la sera insieme detto questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video di testa di calcio ciao